Salve a tutti amici, oggi è una bella giornata, un po' di vento, Sto facendo una spazzolata, qua c'è il mio carrettino, questo è il primo, non so cosa sia, forse è il piombo, ma è bello grosso, e niente, si, qui dentro, il primo da algete, ma che ci faceva questo pezzo, il piombo qua, non lo so, a meno, questo che è il piombo, 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 il piombo.... Iarberi stanno vicino a iarberi. Perfetto. Sì, 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 sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un pezzo di ferro. Ancora? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fondo di lattina. Un pezzo di ferro. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.